Se n'è andato ieri sera dopo una lunga battaglia con la malattia che lo aveva colpito Robert Anthony Boggi, nato a New York, ma saleritano doc, servito internazionale, uno dei più bravi ed apprezzati della sua generazione. Dan, in dissidio con i vertici dell'Aia, aveva più volte sbattuto la porta. I fatti di cronaca degli ultimi mesi, si può ben dire, gli hanno dato ragione. Domani alle 12 nella chiesa di Santa Lucia ci sarà l'ultimo saluto. La scomparsa di Boggi ha suscitato grande commozione in tutti coloro che lo avevano apprezzato come uomo e come arbitro. Il ricordo di Boggi, di Roberto, scaturisce da quando negli anni, perché lui era giovanissimo e iniziò a fare il corso arbitri. Diciamo che ha fatto i vari passi, i gradini e li ha scalato una volta piano piano per raggiungere i risultati migliori nelle categorie superiori. Certamente, quando mi sono trovato nell'ambito dell'Aia ad essere organo tecnico per quanto riguarda la Serie D, io l'ho seguito tantissimo in C, che lui aveva come capo degli arbitri, Marengo. E anche in quelle circostanze lo seguivo perché era meritevole di quello che ha fatto come attività negli anni. Perciò poi è diventato internazionale e alla fine, dopo che è diventato internazionale, lui ha lasciato l'arbitragio, si dimise, lasciato l'arbitragio per contestare tutti quelli che erano i capi storici dell'Aia che già volevano quella porcata che hanno fatto di prendere soldi dalla federazione. Cioè quella è la cosa più ignobile che è stata fatta dall'associazione, quella di prendere il vile denaro. Lui è stato spesso definito con l'etichetta di personaggio scomodo, però forse aveva visto già quello che sarebbe potuto accadere e che poi, in materia di questi giorni, insomma, ciò che sta accadendo all'interno del mondo arbitrale. Non era un personaggio scomodo, era un personaggio che aveva le sue caratteristiche, aveva la sua personalità. Il carattere di Roberto era un carattere particolare, certamente non era facile ad accettare i condizionamenti. Era uno che andava avanti per la sua strada senza guardare in faccia a nessuno, seguiva le sue direttive. Lui, anche quando diventò organo tecnico, si dimise a metà anno perché non riuscì a raggiungere un accordo con il presidente dell'Aia di allora. E in effetti gli subentrò, non mi ricordo, Mattei, l'ex arbitra, Mattei gli subentrò e lui si trovò a vivere una situazione non certamente piacevole perché si trovò letteralmente fuori dal mondo arbitrale. Cosa perde il calcio, cosa perde il mondo dell'Aia? Il calcio perde tantissimo perché Roberto è stato un uomo che ha dato lustro al mondo arbitrale perché con le sue capacità e le sue caratteristiche riuscì a dimostrare all'Italia intera che il mondo del calcio aveva bisogno di personaggi come Roberto che non guardava in faccia a nessuno. Anzi, era un uomo che dialogava tantissimo con le squadre, con i calciatori in campo ed era un uomo apprezzato da tutti, voluto bene da tutto il mondo calcistico. Grazie. 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 Grazie.